Era in Africa da un mese e mezzo per motivi personali, Tonino Tonial, insieme alla moglie Irene. Solo tre giorni fa aveva parlato al telefono con il figlio rimasto in Italia. Poi i contatti si erano interrotti, ma senza che nei familiari si appeggiasse preoccupazione. Invece il suo corpo senza vita era stato trovato mercoledì, in circostanze tutte da verificare. L'uomo originario di Sedegliano, in provincia di Udine, era attivo come volontario per un'associazione on-lus friulana, la Pentalux, che si occupa di avviare un progetto oftalmico per la popolazione Saravi in Burkina Faso e in paese ammiravano molto questa sua dedizione. Avevamo amici, una bravissima persona, mi dispiace. Lei quando ha saputo? Saputo dal telegiornale ieri sera, saputo ieri sera, lui è sposato, non so, due o tre anni fa e dopo ho cominciato, raccoglieva tante di quelle cose per portare là, ci chiedeva a tutti di aiutare, attrezzature, robe vecchie, mandava via, container, bravo, mi dispiace. Lui mi diceva, domandava, cosa faceva, ma non mai parlato che aveva paura, anzi, andavo volentieri là. Lo conosco, veniva qua, poi è amico di mio marito, lui si interessava macchine, quindi auto d'epoca, faceva questo volontariato anche, mandava giù materiale, faceva dei container, mandava giù roba e quindi se aveva paura o pensiero credo non, se non facesse ecco queste cose. Dalla Farnesina è giunta solo la pura e semplice conferma del decesso di Tonino Tonial, difficile mettersi in contatto anche con la moglie che lo accompagnava in questa lunga vacanza che la coppia ripeteva spesso, oltre alle consuete attività di volontariato. pare comunque che sul corpo del Frulano non siano stati rilevati segni di violenza.